giallo a brindisi dove una ragazza di soli 15 anni è morta pochi giorni dopo essere arrivata al pronto soccorso dell'ospedale per rino per un fortissimo mal di testa secondo quanto si apprende il 22 ottobre la giovane si è presentata al pronto soccorso con una forte cefalea la decisione immediata di trasferirla nel reparto di pediatria e poi dopo qualche giorni neurochirurgia dove è stato operato ad urgenza a causa di un improvviso peggioramento delle sue condizioni come confermano dall'asle di brindisi l'intervento è tecnicamente riuscito ma purtroppo un ascesso cerebrale ha causato il decesso della giovane per tale ragione verrà eseguita l'autopsia te lo prometto con tutte le mie forze avrai giustizia piccola mia ha scritto la madre della giovane vittima sui social network condividendo con amici e conoscenti il dolore per quanto successo improvvisamente non doveva andare così la vita è ingiusta riposa in pace piccola grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti